Una goccia su una mano tesa a donare e ricevere sangue. È questa la statua che troneggia nell'installazione che da qualche giorno occupa la centralissima rotatoria pesarese collocata fra via Mameli, via del Monaco e il ponte Brigata Ebraica. Un monumento dedicato ad Avis e al sentimento altruistico dei tanti donatori del sangue pesarese che da anni offrono un servizio fondamentale per la macchina sanitaria del territorio. Un'installazione che Avis ha realizzato grazie ai progetti elaborati dal liceo artistico Mengaroni. È un'opera che in primis abbiamo voluto creare per rappresentare, per omaggiare tutti i donatori di sangue perché noi pensiamo che i donatori di sangue siano una forza che lavora all'interno di Pesaro che aiuta la città a vivere bene, avere una speranza di vita per tutte le persone che sono affette da malattie che si devono curare quotidianamente e questa forza però è nascosta e silenziosa perché non sempre se ne parla, non sempre se ne scrive e invece noi oggi abbiamo voluto portare alla luce questo lavoro che è frutto di un progetto di due anni. Adesso quello che vedete è l'idea di una mano, una mano che tiene la goccia. La mano quando è proposta a donare è aperta verso l'alto. Infatti questa è una mano che dona ed è una mano anche che è pronta a ricevere. Una parte delle classi del Mengaroni ha collaborato con noi per un anno e loro hanno studiato cosa vuol dire la donazione, hanno fatto ricerche e hanno prodotto dei elaborati. Sono venuti una trentina mi pare di elaborati fantastici. L'elaborato scelto dall'Avis è stato quello di Davide Coschiera mentre la realizzazione è stata concretizzata grazie alla ditta pesarese di MM. A tagliare il nastro anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci da 12 anni donatore di sangue. Abbiamo avuto degli incontri con il comune che ci ha dato subito la disponibilità di posizionarlo all'interno di una rotatoria della nostra città vicino all'istituto Mengaroni così i ragazzi ne prendono esempio e lo vedono sempre, ma anche vicino all'ospedale. I ragazzi in questo modo hanno avuto la possibilità sia di rapprociarsi a un possibile lavoro perché comunque sono stati tutti premiati con dei buoni, ma anche hanno avuto l'occasione anche di conoscerci e qualcuno infatti è diventato anche donatore e questo per noi è stata la vittoria più grande. Noi vorremmo che questo fosse un omaggio per tutti i donatori come dicevo prima e anche un pensiero, anche un campanello per chiunque passi qui e veda la goccia e chi è che ha avuto magari l'idea o nel cuore ha la voglia di donare sia pronto a venirci a trovare e diventare donatore perché specialmente come in questo periodo, come dicevo prima, non si sa però noi l'ospedale di Pesaro, da maggio ha iniziato la raccolta del plasma iperimmune tutt'oggi questa raccolta sta andando avanti e tutte le sacche sono sempre state donate e i pazienti che hanno ricevuto il plasma iperimmune sono andati tutti in via di guarigione.